Buona giornata da Massimo Foghetti, ben trovati alla Rassegna Stampa di Fano TV, sono le 7 del mattino, iniziamo con la lettura dei giornali, le nostre trasmissioni e vediamo come l'almanacco del giorno oggi ci presenta un santo che non è molto conosciuto, ma è molto popolare, specialmente in Francia, si tratta di San Romano di Condatte, visse nel V secolo. San Romano fa parte della grande famiglia dei monaci francesi, infatti si ritirò da Eremita nei monti del Giura. Romano scelse una vita di solitudine e di preghiera, ma presto fu raggiunto da altri amici, dal fratello e da altri appunto compagni con i quali fondò l'abbazia di Condatte, un seme fecondo che generò molte altre abbazie in quel periodo in tutta la Francia. Vediamo anche le previsioni del tempo. Ecco che la situazione sulle Marche rimane con un tempo brutto. Giornata nuvolosa su tutta la regione, con piogge intermittenti, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Limite della neve è sui 700-900 metri. I venti sulle coste espireranno da una direzione di est e nord-est, nell'interno debole da nord-est. Le temperature sono in calo e si aggirano tra gli 8 e i 10 gradi, leggermente superiori di quelle di ieri, ma in calo rispetto al periodo precedente. Queste le notizie dell'almanacco del giorno. Ed ora apriamo la nostra pagina sulla pagina di Fano e vediamo appunto l'apertura sul Corriere Adriatico. Si parla di un incontro, di un incontro che si è svolto a Pesaro e ha interessato problemi pesaresi, ma anche fanesi, perché si è parlato del Vittoria Colonna. Ebbene, è stato un incontro organizzato dai sindacati Cigel, Cisle e Will con i vertici dell'Inps, anche a livello nazionale. E si è voluto soprattutto sondare gli intenti, i progetti dell'Istituto in merito ai servizi sociali, alle strutture dedicate agli anziani, tra cui appunto Villa Marina a Pesaro e Vittoria Colonna a Fano. Sull'ex convinto Vittorio Colonna l'Inps ascolta, però non si sbilancia per quanto riguarda i tempi e i modi con cui verranno realizzate le nuove opere. Il direttore Caridi conferma la volontà di ristrutturare il complesso quando e come non si sa, dice appunto il titolo. Comunque c'è stato uno grosso stimolo che ha lanciato il vice sindaco del Comune di Fano, Cristian Fanesi, il quale ha spiegato tutta la situazione del Vittoria Colonna, l'importanza che questo complesso assume nel contesto urbanistico della città di Fano, lo stato di degrado in cui versa l'Istituto e soprattutto l'urgenza di intervenire perché questo grande complesso venga restituito alla città in una sua funzione di carattere sociale. È impensabile, ma così è che questo complesso rimanga disabitato, deserto da decine di anni, quindi centro di occupazioni abusive, di degrado, di episodi di vandalismo, così come è accaduto in tutto questo tempo. Sull'ex convinto Vittorio Colonna l'Inps ascolta, ma non si sbilancia. Altro titolo di apertura è un resoconto di tutti gli interventi, di tutti i progetti che vengono finanziati a Fano con il PNRR, fondi e idee per la rinascita della città, settore per settore, le scelte della Giunta. I progetti sono divisi in cinque macro aree, dal turismo alle scogliere, fino alle infrastrutture sociali. La montare totale di questo progetto è di oltre 35 milioni di euro, 36,5 per il documento unico di programmazione che dovrà essere approvato. E vediamo qui per sommi capi l'importo diviso settore per settore, 9.790.000 euro per i lavori pubblici, 11.920 per il turismo e la cultura, 10.158 per la tutela del territorio, ovvero i dissesti, le scogliere, eccetera, 11.871 per l'istruzione, un milione per la famiglia e le infrastrutture sociali del terzo settore, quindi per un totale di 36,5 milioni di euro. Ovviamente non tutti saranno finanziati con il PNRR e in questo articolo appunto si suddivide l'importo globale tra quello che verrà finanziato con le risorse del bilancio del Comune, quindi le risorse del Comune stesso e quelle che provengono dallo Stato, dal PNRR. Ma è un'occasione unica questa, che non sarà più ripetibile nel corso degli anni, avere tante risorse per poter sistemare progetti che versano così in stato di acquiescenza da lungo, lungo tempo. E vediamo ora quello che accade per la Fano Urbino, questa tratta ferroviaria che viene discussa ampiamente, Fano Urbino, solo qui Binari si va a rilento. La ferrovia Balmetauro è l'esempio di Basilicata e Sicilia, colpa viene attribuita al Partito Democratico. Partito Democratico che è sulle pagine di tutti i giornali oggi per un resoconto delle primarie che si sono svolte domenica per l'elezione del segretario nazionale e vedremo poi tutte le considerazioni. Giriamo pagina e parliamo di un altro progetto che langue un po' da diverso tempo, ma che ora sembra ripartire, è quello del parco dell'aeroporto, un parco urbano che dovrebbe essere realizzato, è la prima realizzazione dopo la piccola montagnola che è stata realizzata come primo stralcio con un gioco dei bambini nei pressi di Via della Colonna, la ristrutturazione della Casa del Custode. Casa del Custode, lavori affidati. La SAM dice sì per 340 mila euro, procede anche l'ITER per il restyling del Consiglio Comunale, di nuove tecnologie, un investimento questo che la Presidente del Consiglio Comunale, Carla Cecatelli, ha voluto per dare dignità e funzionalità soprattutto alla sala del Consiglio Comunale dove verranno eliminate le barriere architettonico. A quasi due anni e mezzo, dopo l'annuncio del piano di recupero e trasformazione della Casa del Custode, dall'aeroporto l'appalto è stato affidato. Ebbene, il Sindaco Seri farà in tempo ad inaugurare quella che viene etichettata come la porta di ingresso di questo grande parco che sembra che sia, i cui lavori sembra che siano ripresi e speriamo che vengono condotti a termine nel più rapidamente possibile perché poi questo è un desiderata che rimane lì da lungo a lungo tempo e viene anche così giudicata male quanto è avvenuto da alcune componenti della maggioranza. Giriamo la pagina e passiamo a quella di Senigallia. Senigallia, nuova illuminazione per la Rocca. Parte da qui il rilancio del centro. Bella questa fotografia che evidenzia un rendering della nuova illuminazione della Rocca di Senigallia. Un bellissimo complesso che fa bella mostra di sé proprio a tutti coloro che passano sulla Statale 16 perché la sfiorano quasi, ci passano di fronte. Dopo sette anni di attesa la Rocca Roveresca avrà finalmente una nuova illuminazione. La Giunta ha dovuto riaggiornare però tutto il sistema dei costi perché con il lievitare delle materie prime insomma tutto quello che costa in più in questi ultimi tempi c'è stato un rialzo da 350 mila euro si è passati a 385 mila euro. Entro il 2023 comunque la Rocca Roveresca avrà una illuminazione artistica che ne aumenterà la scenografia il suggestivo della scenografia stessa. E qua invece vediamo, poverino, un episodio di cronaca che ha fatto vittima un cane. Mette le zampe sopra un tombino e il cane eroe Byron muore folgorato. Aveva salvato tante tante vittime durante l'alluvione. Il proprietario Galletti dice aveva salvato tante vite durante il terremoto e durante anche l'alluvione e aggiungo marciapiede transennato. Aveva rischiato la vita tante volte adentrandosi tra le macerie per trovare i superstiti del terremoto del 2016. Ne aveva salvati tanti ed è morto domenica durante una passeggiata con il suo padrone Massimiliano Galletti. Ha messo il piede su un tombino che era collegato con un cavo difettoso dell'energia elettrica. Ebbene, una grande scossa e il povero animale è morto perché poi ci fosse questo cavo scoperto collegato al tombino è appunto oggetto di analisi, di indagini da parte degli inquirenti. A proposito di cavi, vediamo quest'articolo a fondopagina. Tranciati i cavi della luce blackout a raffica, le zone nord e colinare restano ancora al buio il comune CPL in moto, la CPL Concordia che dovrebbe ripristinare la funzionalità dei collegamenti. I quartieri interessati sono quelli ad ovest della Nazionale, San Filippo Neri e Marina Centro, dove in questi ultimi giorni si stanno verificando continue interruzioni del servizio di illuminazione. Ed ora apriamo il giornale, il Corriere Adriatico, per quanto riguarda la pagina di Fano e vediamo un po' le considerazioni che si svolgono, che emergono in merito alle elezioni del Segretario Nazionale del Partito Democratico. Tsunami Shrine, sui Big Dem, Marche, c'è chi perde due volte. La nostra intera classe dirigente, in titola appunto il giornale, si era schierata con Bonaccini, uscito sconfitto dal Congresso Nazionale. Le primarie regionali hanno incoronato alla Bonprezzi, Patosta, Perricci, Mancinelli e il gruppo Ascolano. Sono coloro i sindaci che avevano sostenuto appunto da una parte Bonaccini e quindi sono rimasti veramente delusi per quanto è avvenuto. Ma qui c'è un'anomalia che forse era così accettata, era scontata, il fatto che tutti gli iscritti del Partito Democratico hanno votato per un candidato che poi deve definire la linea politica del partito. In realtà poi invece allargando le votazioni anche a coloro che non sono iscritti al partito ha vinto l'altro candidato ed è un candidato che insomma non è ben accetto non è ben accetto si fa per dire perché poi sono tutti della stessa famiglia agli iscritti del Partito Democratico. Insomma la situazione è un po' così traballante ma questa è un'apertura che il Partito Democratico fa a tutta la società civile e ne acquisisce tranquillamente spero le conseguenze. Una vittoria inaspettata ora via al rinnovamento. La Bonprezzi nuova segretaria del Partito Democratico a livello regionale non escludiamo nessuno afferma basta con le correnti. Chantal Bonprezzi risponde qui ad una intervista non ci aspettavamo questo risultato Dito dice perché fossi benché fossimo molto determinati siamo andati oltre tutte le nostre aspettative e qui vediamo la fotografia della nuova segretaria regionale del Partito Democratico. Passiamo a Pesaro passiamo a Pesaro e vediamo che alla bretella di Muraglia si sta lavorando non stop raddoppiamo gli operai per fare in fretta. È un viaggio in anteprima quello che compie il giornale sulla strada Berlinguer il consorzio sa che il direttore dice siamo saremo puntuali. Giovedì ci sarà un incontro anche per via Carloni si riapre forse venerdì e beh la cosa è probabile ma c'è un punto interrogativo niente situazioni a rischio per il ponte di via Canale l'assessore Pozzi replica a Gambini e rassicura sulla sicurezza della infrastruttura ed ora vediamo un resoconto dell'indagine per quanto riguarda il delitto che si è compiuto nei giorni scorsi a Pesaro Alessandrini Alessandrini Michael Alessandrini l'imputato in Italia in tempi brevi sarà estradato il legale chiede comunque la perizia psichiatrica è stata presentata l'istanza per il trentenne accusato dell'omicidio dell'amico l'autopsia non è stata ancora fissata sul cadavere comunque l'avvocato ha presentato l'istanza per la richiesta di perizia psichiatrica il trentenne è in stato di fermo in Romania Timisoara per l'omicidio dell'amico ventisettenne Pierpaolo Panzieri ucciso con tredici coltellate l'avvocato del giovane Salvatore Asole ha depositato la richiesta tutto ci fa pensare che sarà accolta dalla procura come perizia di parte e sarà eseguita nella forma dell'incidente probatorio spiega Asole abbiamo elementi seppur verbali tra familiari e amicizie che ci portano a propendere per una capacità mentale fortemente scemata e addirittura esclusa probabilmente un attacco di pazzia ha suscitato appunto questa reazione ma tutto da dimostrare tutto da accertare vedremo poi anche come il resto del Carlino tratta questa vicenda vediamo di vederla subito si tratta di un eccolo qua si tratta di un resoconto sulla stessa vicenda avviato l'iter per l'estradizione primo interrogatorio per Michael la difesa serve visita psichiatrica intanto la mamma della vittima se era libero di circolare significa che era ritenuto non pericoloso dice la mamma nessuna condanna restituirà mio figlio ma il responsabile deve pagare il suo passato di necroforo anche questa professione che voleva continuare appunto Alessandrini voleva andare a Milano per appunto impiegarsi di nuovo in questa professione fare il necroforo comunque domani alle nove nel tribunale di Timisoare in Romania verrà interrogato per rogatoria appunto Michael Alessandrini e il magistrato romeno chiederà se vorrà rispondere a questa domanda prima domanda che gli faranno sei stato tu l'assassinio appunto del tuo amico e allora vedremo le risposte appunto dell'imputato torniamo al Corriere Adriatico giriamo la pagina e vediamo come si parla di anche qui si parla di elezioni primarie del partito democratico lo tsunami primarie scombina le carte il giorno dopo l'unità e l'ultima spiaggia ebbene dopo le divisioni che si sono verificate all'interno del partito democratico ora è dovere riparlare di unità perché se il partito non si ricompatta veramente finisce poi come stava finendo ultimamente lavorare insieme ogni divisione sarebbe mortale e quanto ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci per gli anziani non solo Villa Marina un residence anche a San Salvatore anche sulla pagina di Pesaro si parla di quel convegno che i sindacati hanno svolto ieri CGL Cisle Will con i vertici dell'Inps in questo caso si parla qui in maniera più appropriata di Villa Marina mentre sulla pagina fanese si parlava del Vittorio Colonna ma sono due strutture associate per quanto riguarda gli scopi e le funzioni che dovrebbero assolvere sono funzioni di ordine sociale che dovrebbero rendere un servizio soprattutto agli anziani agli over 65 che potrebbero godere di appartamenti di servizi all'altezza della situazione soprattutto all'altezza delle esigenze della loro età in pieno contesto urbano pensate che il Vittorio Colonna è a due passi dal perimetro del centro storico di Fano e quindi veramente copre un intero isolato e all'interno ci sono moltissimi servizi addirittura c'è un teatro una chiesa dei giardini una cosa veramente molto molto bella ex intendenza sui ponteggi e negozi devono chiudere cinque giorni do di stop da lunedì incontro tra comune commercianti e demanio ebbene i lavori hanno le loro necessità e quindi anche i negozi che sono nei pressi dell'ex del palazzo dell'ex intendenza di finanza dovranno supportarne purtroppo le conseguenze ed ora sulla pagina di Urbino parliamo dell'ingresso dell'arcivescovo di Pesaro nella città Ducale un ingresso non poco problematico Salvucci la diretta su Youtube per l'ingresso ufficiale in Duomo ma Rossi e Michelli non parteciperanno alla cerimonia di insediamento dell'arcivescovo ebbene Nicola Rossi di Liberi per cambiare Elino Michelli di Urbino Capoluogo non saranno presenti all'insediamento per la protesta in quanto la diocesi di Urbino non ha avuto un suo vescovo titolare e quindi sarà unita alla diocesi di Pesaro mentre ci sarà l'ingresso del nuovo vescovo nella città ci sono delle iniziative addirittura tre giorni di iniziative concentrati dal 3 al 5 marzo le celebrazioni cominceranno il 3 marzo alle 20 45 quando Salvucci incontrerà i giovani dell'arcidiocesi sabato alle 16 30 i fedeli si ritroveranno alla piantata per il pellegrinaggio al santuario di Castacciolo infine domenica 5 l'ingresso a Urbino alle 15 30 in corteo da borgo mercatale alle 16 il saluto delle autorità al palazzo ducale e alle 17 il solenne pontificale in duomo con la diretta su più canali di youtube insomma sarà una cerimonia ugualmente improntata alla solennità che merita l'ingresso di un nuovo vescovo nella sua diocesi ma insomma questa cosa è un po' forzata nella città di Urbino in quanto non c'è stata l'adesione popolare e anche quella del clero dicono appunto i politici in merito a questa decisione pedagliamo in sicurezza cambiamo argomento pedagliamo in sicurezza con 400 all'unni ebbene questa è un'iniziativa pedagliamo in sicurezza che coinvolge diversi istituti scolastici il Pascoli Volponi Anna Frank e i comuni di Urbino Petriano Sasso Corvaro Auditore e Monte Calvo si tratta di un ciclo di incontri con le scuole sul rispetto del codice della strada a cura della polizia locale si parla di ambiente di conoscenza della bicicletta come mezzo sostenibile di divertimento e anche di sport è doveroso ringraziare Pedalo Sicuro Pier Giorgio Guelpa e tutti i suoi collaboratori e poi qui si fanno i nomi per l'organizzazione di questa iniziativa intitola appunto il giornale abbiamo visto il Corriere Adriatico quindi diamo un'occhiata anche al resto del Carlino per quanto riguarda la pagina di Fano e vediamo che l'apertura è dedicata ad una notizia di cronaca contratti fittizi per investire e risparmi altrui il broker si difende sono estraneo ai fatti chi è il broker ebbene qui abbiamo la fotografia di questo signore è Paolo Spinaci Paolo Spinaci uno dei 14 indagati della Maxi Operazione condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Encona nei confronti di intermediari di una società londinese si tratta la compendium value non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione del genere ha dichiarato appunto l'imputato sono passati sei giorni da quando la guardia di finanze di Ancona ha fatto irruzione nel suo ufficio controllando i libri contabili e sequestrando faldoni in merito all'inchiesta Ghost Broker in cui il risultato coinvolto sei giorni infernali per cui l'ex direttore di banca Paolo Spinaci appunto deve rispondere delle imputazioni quali sono queste imputazioni il reato ipotizzato nei confronti di Spinaci e di altri tre broker coinvolti è di esercizio abusivo dell'attività finanziaria e non di truffa sono però almeno 500 i contratti ritenuti fittizi per operazioni finanziarie definite abusive dai finanzieri che paventano anche l'utilizzo dello schema Ponzi un modello di vendita economica truffaldino che promette forti guadagni ai primi investitori a discapito di quelli nuovi quindi un metodo che non viene accettato dalla normativa in atto ebbene questa è una vicenda che appare oggi sui giornali e dovrà essere approfondita anche nei prossimi giorni per poi verificare le reali responsabilità appunto degli imputati a processo un professore troppo duro stesso prima ad Urbino aveva dei precedenti questo insegnante prima insegnava Urbino poi è venuto a Fano insomma però è accusato di maltrattamenti nei confronti dei suoi allunni il docente di matematica del Torelli soprattutto nei confronti di una ex allieva la cui madre ha presentato la denuncia e ora ha depositato la sua dichiarazione nei confronti del giudice davanti al giudice la preside dell'ITIS del Torelli ragazzi intimoriti anche da noi la LITIS di Urbino quindi aveva dei precedenti è stata ascoltata anche la preside dell'ITIS Enrico Mattei di Urbino Silvia Gelardi in merito ai comportamenti di questo professore di matematica è un imputato ora davanti al tribunale di Pesaro di maltrattamenti nei confronti di una allieva oggi maggiorenne allora tra il 2017 e il 2020 frequentava l'istituto Torelli di Fano e vedeva il professore come un incubo ad ogni lezione la preside Urbinate ha spiegato di aver richiamato diverse volte il docente per i suoi atteggiamenti nei confronti dei ragazzi prima del bienio poi del triennio ma quest'ultimo poi ha continuato nella sua prassi insomma è tutta una questione da definire e dovrà farlo il giudice e poi il resto del carlino fa un sondaggio anzi riporta la notizia di un sondaggio che è stato fatto in città da chi non viene ben precisato però sembra che sia un sondaggio lanciato da uno dei candidati da autocandidati a sindaco per la prossima tornata amministrativa elezioni sondaggio per il dopo seri spuntano mazzanti capogruppo dei 5 stelle in consiglio comunale e Renato Claudio Minardi ex consigliere regionale gira un sondaggio su possibili candidati sindaci del centro-sinistra per le elezioni del 2024 ci sono tutti gli assessori più il capogruppo dei 5 stelle Tommaso Mazzanti e appunto Renato Claudio Minardi ci sono diversi nomi vi invito a leggere questo articolo perché è veramente interessante ma sono ovviamente delle speculazioni in atto ancora c'è tempo per la campagna elettorale del 2024 ma siamo già alle prime avvisaglie bene qui noi interrompiamo la nostra rassegna stampa il tempo a nostra disposizione è scaduto vi do appuntamento alle 7 di domani per una nuova rassegna dei giornali grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto